ero tutto intento a fare la mia terza cosa preferita al mondo e cioè cucinare la seconda ovviamente è mangiare la prima non si può dire su youtube quando improvvisamente ha suonato il mio telefono ed era un mio cliente che di professione fa l'architetto completamente affranto per il fatto che aveva urgenza di andare da un suo cliente per sottoporgli dei rendering di un progetto si trattava di file di grosse dimensioni che aveva bisogno di mettere su un pendrive ma naturalmente il suo pendrive improvvisamente si era rotto e non veniva nemmeno letto dal suo sistema operativo e allora non avendo nessuna voglia di interrompere la mia terza cosa preferita al mondo ho suggerito di guidarlo telefonicamente per fargli ripristinare il pendrive e lui mi ha detto allarmato ma guarda che io non ho nessuno strumento qui non ho nessun software per farlo e gli ho spiegato che non serve nessun software particolare ma semplicemente fare per bene determinate operazioni che magari ti mostro per tua comodità non si sa mai dovesse rompersi un pendrive saprai come sistemarlo ma lui ci sarà riuscito o no andiamo a vederlo insieme ti senti pronto iniziamo ci sono alcune cose che in casa mia non mancano mai la prima naturalmente è sempre il cibo mentre la seconda sono dei pezzi informati cirotti e per l'occasione sono andato a rispolverare questo pendrive che è anche abbastanza carino perché è da 64 giga ma se andiamo a collegarlo come ti mostrerò tra un istante purtroppo non viene proprio letto dal sistema operativo che ne richiede la formattazione se infatti proviamo a collegarlo su questo computer succederà questa cosa qui ok ci dice che l'unità è stata collegata ma se andiamo a provare ad aprirla nel nostro nelle nostre risorse del computer ci dirà che il disco non è formattato e quindi è illeggibile se proviamo a formattarlo purtroppo all'avvio il disco restituirà un errore irreversibile e ci dirà che non è possibile completare la formattazione chiudiamo quindi tutte queste finestre e andiamo a vedere come risolvere questo problema cucù scusami ma devo fare due precisazioni al volo prima di continuare la prima è che tutto quanto l'hardware e in particolare i pendrive e gli harddisk usb che andremo a coprire con questo tutorial si possono rompere sia dal punto di vista hardware sia dal punto di vista software quello che andremo a vedere vale quest'oggi per i problemi software è possibile anche effettuare la riparazione dei pendrive dal punto di vista hardware ma richiede innanzitutto una tecnica molto più complessa che tuttavia se ci sarà sufficiente interesse potremo andare a vedere in un tutorial successivo la seconda precisazione riguarda invece il fatto che utilizzeremo dei comandi dos di questi comandi ti lascerò una copia scritta nella descrizione di questo video in modo che tu a tua volta possa fare un comodissimo copia incolla evitando di commettere errori torno giù la prima cosa che dovremo fare sarà aprire un prompt dei comandi in modalità amministratore per farlo ci porteremo qui in basso dove abbiamo la lente di ricerca oppure la barra di ricerca ci cliccheremo su e al suo interno digiteremo cmd sceglieremo questa voce qui quella che si chiama prompt dei comandi faremo click con il pulsante destro del mouse e sceglieremo la voce esegui come amministratore accetteremo che il prompt apporti modifiche al sistema cliccando sul pulsante sì e ci si aprirà una finestrella nera esattamente come questa qui al suo interno andremo a digitare il comando disk part e cliccheremo sul pulsante invio ecco fatto il comando che abbiamo appena lanciato ci consente di entrare in una mini console di gestione delle partizioni dei nostri dischi il comando successivo sarà il comando list disk che ci consentirà di vedere invece quali dischi sono presenti sul nostro sistema andiamo a digitarlo e anche questa volta premiamo invio come puoi vedere abbiamo tre dischi installati su questo computer è molto semplice individuare la nostra unità perché sappiamo essere un disco da circa 64 gigabyte e quindi in questo caso sarà il disco 2 attenzione una precisazione importantissima con il prossimo comando andremo a selezionare il disco su cui faremo le nostre modifiche assicurati di scegliere il disco giusto perché queste modifiche andranno a cancellare completamente il contenuto del disco stesso e quindi se dovessi sbagliare disco sarebbe una piccola catastrofe se per caso cancellassi dei file importanti per te o per il tuo lavoro continuiamo una volta individuato il disco giusto quindi che nel mio caso è il disco 2 come puoi vedere andremo a dare questo comando che è sel come seleziona disk e poi il numero del disco nel mio caso ripeto il numero 2 premiamo invio e verrà selezionato come puoi vedere il disco selezionato come puoi vedere il disco 2 a questo punto quello che andremo a fare è una pulizia completa di tutto quanto il contenuto di questo disco in termini di partizioni e quant'altro con il comando clean digitiamolo e premiamo invio attendiamo alcuni secondi il termine dell'operazione ecco fatto sono davvero curioso di scoprire se riuscirai a leggere quello che scriverò nel tempo di attesa precedente torniamo a noi quello che dobbiamo fare a questo punto è scrivere per due volte la parola exit la prima per uscire dalla console di gestione delle partizioni e la seconda per uscire dal prompt dei comandi digitiamo quindi exit premiamo invio e digitiamo nuovamente exit e premiamo infine invio come vedi la finestra si chiude se tuttavia a questo punto torneremo in basso sul nostro esplora file e ci porteremo in questo pc noteremo che il nostro disco è ancora inaccessibile è assolutamente refrattario a qualsiasi formattazione dovessimo tentare di fare quello che dobbiamo fare a questo punto è all'interno di esplora file cliccare su questo pulsantino qui e portarci sul pannello di controllo nel pannello di controllo in alto a destra attiveremo la visualizzazione per icone grandi e ci porteremo sugli strumenti di windows questi qui andiamo ad aprirli e nella finestra che si apre apriremo la voce gestione computer in gestione computer cliccheremo sulla barra sul lato sinistro sulla voce gestione disco e dopo aver individuato il nostro disco che è sempre quello da 57 gigabyte nel mio caso nel tuo avrà la stessa dimensione di quello che si è andato a ripulire con i comandi dos precedenti dovremo cliccare con il pulsante destro e scegliere la voce nuovo volume semplice cliccando su questa voce si aprirà una finestra su cui cliccheremo il pulsante avanti in basso a destra clicchiamo ancora su avanti e clicchiamo ancora su avanti per andare a creare la nostra unità clicchiamo quindi ancora una volta su avanti e al termine su fine vedrai che partirà la creazione del nostro volume che verrà successivamente formattato come puoi vedere windows a questo punto rileva già la presenza della nostra unità e se andremo a chiudere tutte quante le finestre aperte e a riaprire il nostro esplora file all'interno di questo pc il nostro disco g sarà finalmente nuovamente accessibile ma a questo punto la domanda più importante di tutte rimane e cioè il mio cliente sarà riuscito grazie a questi comandi a recuperare il suo pendrive o no bene la risposta è no ma semplicemente perché si è intruppato con i comandi che gli dettavo via telefono e quindi eroicamente e a rischio di bruciare il mio sugo di pesce da fare con le linguine sono corso al computer e glielo ho fatto io da remoto dopodichè per fortuna la chiavetta ha ripreso a funzionare regolarmente e siamo arrivati al momento dei ringraziamenti che quest'oggi sono tutti per alex bocelli mike leone in arte giorgio brusasco e al mitico mirko per i loro generosissimi super grazie vi ringrazio infinitamente a nome mio e di tutta la community per il vostro graditissimo supporto e l'ultimo ringraziamento come ben sai non può mai mancare ed è proprio quello destinato a te che hai guardato questo video fino in fondo mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e nella speranza che tu possa recuperare tutti i tuoi pendrive in futuro ti saluto e ti do come sempre appuntamento alla prossima